dobbiamo nasconderci prima che Daki finisca di contare fino a 100 velocemente nasconditi in quella grotta spero che lei non ci trovi lì non voglio essere io 98, 99, 100 pronto o no? eccomi qua è quello uno squalo? l'uovo dai denti di squalo sì, penso di sì se lo è allora i Shark Toots verranno a cercarlo sì, qualcuno dovrà riportarlo allo squalo dente o inizieranno guai per tutti nella grande valle non voglio essere nei paraggi quando lo faranno beh, potrei riprenderlo sono quasi un dinosauro completamente cresciuto potrei farlo abbiamo trovato la grande valle senza l'aiuto degli adulti se uno di quei denti aguzzi viene dopo di me io semplicemente ho trovato Spike ho trovato Spike Spike è lui Spike è lui questo è un dente affilato e sì che lo è come è arrivato qui? l'abbiamo trovato in quella grotta e lo riporterò allo squalo dente oh no 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 questo è pericoloso dobbiamo dire agli adulti beh, se uno di quei denti aguzzi viene dopo di me dovrò solo colpirli con la testa se vogliamo recuperare quell'uovo dovremmo sbrigarsi prima che faccia buio questo sembra un buon posto per l'uovo ti ho detto che potevamo farlo era facile oh no ho perso gli altri gli altri spero stiano bene sembra che mi sia perso dovrò semplicemente trovare la mia strada per tornare alla grande valle da solo ciao Petri è qui per aiutare Littlefoot a trovare la strada di casa ciao Petri mi sono perso e non riesco a trovare gli altri suppongo che dovremo trovare la nostra strada di ritorno insieme potrei davvero usare il tuo aiuto penso di conoscere i modi a trovare la nostra strada di casa